Un altro giorno tramonta dopo la preghiera, il lavoro, l'accoglienza, ciò che è previsto, gli imprevisti. Con l'ultima preghiera del giorno la giornata si conclude e ogni monaco ritorna nella sua cella. Comincia il grande silenzio della notte fino al mattino seguente. Dopo il crepuscolo e il riposo della notte alle tre e mezza una campana sveglierà ancora i monaci per riprendere di nuovo la giornata ancora nel silenzio della notte per pregare, per chiedere a Dio di illuminare la notte di tutti gli uomini e di tutte le donne nel mondo. Questo è il servizio della vita monastica per tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.